ciao a tutti ragazzi bentornati su Gamebusters e su Red Dead Redemption 2 allora siamo ancora qui nella vecchia fattoria con il nostro John che si fa a chiamare Jim andiamo a parlare con Abigail andiamo paternità per idioti quanti caffè fa Abigail? ma questo non è vero 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 stavo... stavo leggendo la biblioteca stavo leggendo su una vecchia fattoria di Beecher's Hope sotto a Blackwater stavo? beh... Jack ha scritto anche per me ma... pensavo magari potremmo riuscire qualche money la banca potremmo il resto potremmo essere felici, John se potremmo... ho un... god damn price sulla mia head, woman lo so lo so lo so lo so ogni volta che siamo arrivati a un'altra facciamo qualcosa tu vai e mostri all'interno del mondo che tu non è Jimmy Milton in ogni posto che ci siamo è stato il stesso iniziamo a fare bene e poi... tu si tratta come un grande uomo con un uomo sono sbagliato, John e... credo che ero un po' dai ma fino adesso ci stiamo comportando bene però non ha senso questa storia che mi stai facendo ma come aprono la porta così di casa? boh io prendo il ragazzo con me è getting soft Lancelot vieni vieni Jim se stai in questo modo puoi prendere un passaggio per me? un'altra cosa che ho chiamato credo che è in... tuo nome? mio nome credo credo uno è in tuo nome e l'altro è in mine solo uno dovrebbe arrivare ma ora quanto hai fatto quindi guida lui? non ho capito no no stiamo guidando noi ok andiamo io odio guidare i carri eh infatti odio le curve dei carri come si può vedere maledizione dai prendi le reti nel Lancelot dai beh non ci fa schiantare però eh stiamo tornando a Strasberry stiamo tornando a Strasberry dai ma che scenari c'ha a sto gioco dai roba mai vista ok ok andiamo all'ufficio postale dai ok ok dividiamo collezioni con altri carri dove sta l'ufficio postale eh ok 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 vengo subito eh non fare guai che entusiasmo che entusiasmo posso stare a questo ragazzino eh eccoci e tiriamo la posta Il nome? Il nome mio? Jim Milton Jim Milton Hmmmm Nope Nothin' qui Uh Probabilmente provi Marston, John Marston È una storia longa Ok, John Marston Marston Nop Cosa si è girato eh Quello si è girato eh Abigail Roberts Abigail Roberts Yes Here we are And also I'm here to pick up the deliveries for Pronghorn Ranch David Getty sent me Pronghorn? Yes, or Sign here We have a bunch of stuff for you And I will help you out Hmm I'll take these You get the rest of the stuff Here Let me help you with this Mr. Marston Ah, it's uh Mostly Milton these days It's a long story Whatever you say Mr. Milton It's not important Take care now Give my regards to Gettys Thank you very much Mr. Mi sa che ha fatto un guaio eh Let's get out of here Everything okay Pa? Sure I hope so at least Here No, secondo me ha fatto un guaio eh Come on son You enjoy it if you try a little harder Ok Ok Pa E vai, su Pa Ah Come on We are back to Pronghorn ok? So wait We have come all the way out here And we just gonna turn around and go back? That's what we are doing Turns out I miss this The closure of the river That's what we are out here I miss the closure of the river Don't you want to go to the store or Or where We are going back Non mi ricordo come si chiama Quei ragazzi orlandese o scozzese, non mi ricordo Molte puntate fa, moltissime puntate fa E' sempre un piacere non guidare il carro Non mi piace questa situazione Chi sta seguendo? No, per il momento no Andiamo un po' più veloci, dai Chi ci sta seguendo? Sapevo Si segui ancora? Ah si Si, si sta seguendo Sono arrivati i guai E' ufficiale Come on, quick, down Ok, figlio, aspettate qui Non si muove o non si dice nulla Sì, senti a te Sì, senti Ok, ragazzi Vediamo cosa vengono a chiamare Che ci sono con noi? Oh, solo vogliamo avere un amico Amici No, non sono Non mi risulta proprio Eh dai Eh no Eh, non possiamo morire così però Cazzo Cazzo Ma ti ho colpito in testa? Curati Curati, curati Assolutamente Ok Avevo perso un attimo l'abitudine Ma perché dobbiamo girare così? Sì, perdonatemi Eh, non li guardare Ah Andiamo Se non c'eri anche tu li rapinavo pure Ti è andata anche bene Sì, sì Comunque non ce l'ha il De Die Il nostro John Mi viene di chiamarlo Arthur Perdonatemi E calma di giovane Su Non è successo niente Non dire niente a mamma Eh, mi raccomando Mi raccomando Quella si incazza Non dire niente a mamma Non dire niente a mamma Eh, che puoi da me? Ti ha distrutto Ti ha distrutto Ti ha distrutto Allora Paternità per idioti Qui ovviamente abbiamo preso il bronzo Perché Non è stato un combattimento Buono Uccidi tutti e tre nemici Usando il De Die Non mi partiva Non so per quale motivo Dopo lo scontro Torno al Ranch Entra un minuto e trenta secondi Va bene Quindi c'è il De Die È ufficiale Non mi partiva il De Die Ok Va bene ragazzi Direi che con questo appuntamento È stato bello movimentato Possiamo chiudere qui Noi ci vediamo alla prossima Ovviamente sempre qui su Gamebusters Ciao a tutti ragazzi Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti